La verifizia da Pano è il presidente dell'Accademia dei professionisti. Cos'è questa accademia e di cosa preoccupare? L'Accademia è l'associazione che nell'ambito della legge 4 2013 sulle cosiddette professioni non organizzate in ordine e collegi rappresenta la categoria molto ampia e nutrita e variegata dei formatori e dei consulenti di organizzazione. Dico che è una categoria molto ampia e nutrita e quindi anche sulla base della considerazione dei tanti che svolgono questa professione non è neanche sensibile il numero di queste persone perché la professione ha molte declinazioni. Ad esempio il formatore può essere un formatore docente all'interno di un'organizzazione anche in forma dipendente perché la legge prevede anche questo oppure può essere un esperto di formazione, un freelance, un progettista della formazione insomma sono veramente tante e molteplici come dicevo le declinazioni delle professioni così vale, lo stesso vale anche per consulente di organizzazione. Allora noi abbiamo come obiettivo fondamentale e ci rivolgiamo in questo soprattutto ai giovani quello di valorizzare le professionalità, le competenze e dunque le professionalità in un'ottica poi di mondo del lavoro garantendo sempre di più ove possibile uno stretto collegamento, una stretta correlazione tra l'università, il mondo dei saperi e il mondo dei saperfari quindi il mondo delle competenze e della professionalità e lo stiamo facendo attraverso innanzitutto una convenzione che è stata stipulata con il centro di ricerca e di bilancio delle competenze dell'Università Roma 3, Dipartimento di Scienze e della Formazione e poi naturalmente anche con il lavoro che la nostra associazione è l'offerta di servizi che la nostra associazione propone, tra cui ad esempio il sistema di formazione permanente che dà la possibilità non solo ai giovani ma anche a coloro che questa professione la svolgono da tanto tempo di continuare ad aggiornare, a nutrire, a coltivare la loro professionalità. Durante il suo intervento ha parlato dell'importanza di incrementare le proprie competenze, soprattutto in queste professionalità. Sì, incrementare le competenze è veramente la missione ormai di chiunque, di chiunque svolga un mestiere, una professione e intenda farlo ad alto livello, tra l'altro ormai lo rilevano anche diverse indagini a livello internazionale noi stiamo assistendo a un sempre maggiore scarto tra le professioni ad alto livello di competenza, ad alta intensità di competenza e quelle a bassa livello di competenza. Quindi questo scarto che sta riducendo sempre di più le cosiddette medie professioni, le professioni di media competenza, porta soprattutto per le professioni intellettuali quale la nostra, alla necessità di un continuo processo di apprendimento che non termina quindi con gli apprendimenti formali ma prosegue sempre di più anche in apprendimenti non formali e informali, quindi nella vita vissuta, nelle competenze ove naturalmente è sempre necessario l'inclusione di percorsi formativi. Quindi questa è la nostra mission, il valore che vogliamo dare alla professione e questo è quello che ci proponiamo quotidianamente di fare. Grazie.